Ciao a tutti! Senti Cristiano, siamo arrivati tutti un po' sconcertati vedendo questo frammento della fiction Mina Settembre, la puntata scorsa. Vediamola un po' dove si è svelato tutto, eh? Comunque come la conti giusta? Non sarà un amante, non sarà un boss della camorra? Ma qualcosa di strano c'è. Ma va. Grazie. Prego. Sei tu. Sei tu, l'amante di mio padre. Mi emoziono ancora quando la vedo. Sì, è difficile da fare. Sì, tosta, perché ho detto che fai in quel momento? Cioè la tua migliore amica, vedi io non riesco a guardarla negli occhi. Ho detto ragazzi, io, Cristiane, di fronte al pericolo si blocca e qui per me è proprio freeze, scena in cui lei si blocca totalmente e non riesce a guardarla. Ha tenuto questo segreto per così tanti anni e eccolo lì che è caduto insieme all'agenda. Allora, Cristiane, adesso torniamo a noi, no? Torniamo alla realtà. Allora, il tuo podio, quindi su Italia Sì, è molto intrigante. A te. Voglio che insieme a me voi oggi rifletteate un po' sulla parola empatia. Empatia perché come noi attori dobbiamo essere empatici verso i personaggi che interpretiamo. A volte sono anche personaggi un po' scomodi, come nel caso proprio mio di Irene nella fiction Mina Settembre, ma il personaggio va accolto, abbracciato e non va giudicato, altrimenti non riesce a interpretarlo. Così io sto provando nella vita a empatizzare con le persone, a mettermi in ascolto, a guardarli, guardare le persone negli occhi, soprattutto in questo periodo che con le mascherine diciamo è l'unica cosa che si può vedere, ed essere in ascolto. Perché succedono delle cose, perché si fanno delle cose, non giudicare subito, ma ascoltare. Ci provo tutti i giorni, spesso fallisco, però è un obiettivo secondo me bello di vita e vorrei che lo condivideste con me. Allora, come ci si mette in ascolto della vita? Tre cose di te, no? In ascolto nella vita sì, assolutamente anche appunto l'empatia e guardare il mondo con empatia, ringraziare sempre per le piccole cose che si hanno. Per esempio, io ho tre cose che stamattina mi hanno reso felice, mi rendono felice tutti i giorni, ed è lo zampettio dei miei bassotti quando vengono la mattina a svegliarmi. Ecco qui Rocky Apollo, mio figlio, ovviamente, eccolo qui insieme a Rocky. E poi io adoro, forse la mia parte tedesca, le nuvole, il tempo brutto come era stamattina e quindi ho fotografato queste nuvole dal mio bancone. Amo anche il sole, amo anche la mattina che io posso svegliarmi, aprire la serranda, vedo il sole o la sera vedo la luna. A volte io non voglio abbassare le serrande perché mi sembra di trattare male la luna. E dico che bello che Dio mi ha dato questa gioia di godere. Adesso parlo con voi e vedo fuori il vento, gli alberi. La natura per me è una cosa bellissima e finché ho questa gioia e questo trasporto, insomma questo modo di guardare il mondo con gioia e con gratitudine, allora va bene. Il mio cammino è quello giusto e andiamo ancora di più verso l'empatia. Allora il gioco di Cristiane anche con i nostri saggi. Mi dite una cosa che vi ha fatto felici, anche molto piccola, da stamattina, Stella? Beh io mi sono svegliata pensando che oggi organizzerò il compleanno della mia Berta, che è la mia cagnolina, e compio un anno, quindi a mezzanotte festeggerò con una torta particolare per cani, il fiocchettino fucsia. Peccato non poter invitare un po' di cagnolini al portiere. Infatti, è, il prossimo anno. Mauro? Intanto se posso come premessa un bentrovato empatico alla signora Filangeri, che credo abbia avuto un periodo di difficoltà nel privato, ampiamente superato dalla sua voglia di tornare a lavorare. Ha fatto molto bene perché ci regala, oltre che la sua imperitura bellezza, la sua bravura dimostrata anche in questa occasione, quindi complimenti a lei. Oggi mi ha fatto molto felice scoprire da una persona che conoscevo già, un autista, che mi ha portato qui alla RAI, e ho scoperto dietro un mondo di un signore sessantenne, un passato da scienziato, start-up avviata, difficoltà generate dall'età. L'industria pensa a un certo punto che le persone che raggiungono una determinata età non siano poi così importanti. Invece ha ricominciato e quindi il mio benessere deriva dal fatto che, con la volontà e con la pazienza e soprattutto con l'applicazione, ci si può rigenerare facendo un'altra vita per mantenersi e continuando a studiare, perché lui mi ha detto vado adesso alla sapienza a continuare i miei esercizi di scienza. E questo incontro è stata una cosa bella, Dio. Bellissima. Poi la start-up riguarda la scoperta di come arrivare al centro di un tumore alla mammella in maniera precisa senza violare più di tanto il seno di una donna. Seguiamo questo, magari andiamo a raccontare. Enrica? Ma io mi affianco a Cristiano Filangeri, perché anche io credo che chiunque abbia in casa un cammino, un cane e una figlia, come ho io, possa essere sicura di trovare dei momenti felici. In particolare perché oggi fa freddo e mia figlia ha acceso il cammino e il cane l'ha seguita, si è messo in davanti, no? E uno dei ceppi che stanno dentro, non so se tutti, insomma ti assicuro, ti faccio vedere la foto, ha fatto un cuore nel fuoco, un cuore. E si vede Nina, la nostra cagnolina, che la guarda così. Per cui mi è sembrato così di buon auspicio. Poi domani è San Valentino, il cuore chiama brucia. Ma che bello, vedete? Solo stamattina, eh? Comuni quattro zampe tra tutti, eh, mi sembra. Sì, infatti è vero, tutti amanti dei cari. Cristiano, tu sarai una grandissima protagonista di questo weekend, perché c'è Mina Settembre e poi sarai anche protagonista del commissario Ricciardi. Sì, lunedì sera, faccio proprio questa doppietta. Una doppietta. Però torniamo a Mina Settembre, vediamo un'altra scena. Un'altra scena, questa è la chicca, un'anticipazione solo per l'Italia Sì di quello che succederà nella prossima puntata di Mina Settembre. Pezzettino, guardate. Che dici? E lo dico pure a Mina che stasera, così ce ne stiamo tutte e tre. Sì, magari. A stasera. Tittino. Grazie per i cornetti. Di niente. Prima o poi glielo devi dire. Ma magari si riaggiusta tutto. Inutile farla preoccupare. È veramente una strana concezione dell'amicizia, tu. Il segreto dentro, eh. E perché io non solo così ho rovinato l'amicizia con Mina, ma anche il trio, questo bellissimo trio che ci dà tante emozioni, non c'è più. E qui c'è ancora Titti, no? Che cerca di capire, poi vedrete domani sera, ma ho sfasciato parecchie cose, insomma. Ma tu sei capace? Il segreto pesante. Sei capace nella vita reale a tenere i segreti? No, zero. Ho sempre detto ai miei amici, ragazzi, non mi dite manco un cecio mi so tenere, faccio delle figure tremende. Appena mi dici, no, senti, non dire allora a mia madre che sono uscita con lui, invece sono uscita con te, subito. Cioè, parte... Esce tutto. Proprio no, non fa per me. C'è una tua amica che ha qualcosa da dirti su questo, eh? Eccola. Ciao, Cri! Che cosa ti posso dire? Che è stato bello condividere il set di nuovo dopo più di dieci anni. Penso che l'affetto che ci lega siamo riusciti anche a trasferirlo in Mina ed Irene, nonostante la pugnalata che mi ha dato nell'ultima puntata. E non vedo l'ora di tornare a fare quei nostri meravigliosi viaggi, anche perché sono di ottima compagnia quando si viaggia, poi se vuoi racconterai la verità. e ti voglio dire che tra tutti i regali che la vita mi ha fatto e che questo nostro meraviglioso pazzo lavoro mi ha fatto, c'è sicuramente quello di di averti incontrata e di averti nella mia vita, perché sei speciale. Serena Rossi, bravissima, bravissima. Le mandiamo un bacione. So che siete molto amiche. Un artista a tutto tondo, un'anima bellissima e peccato che in vacanza lei dorme, dorme tutto il tempo e quindi è un piacere averla in vacanza con te. Si vede che recupera tutte le forze e le energie per poi i mille programmi che deve fare. Programmi, deve cantare, deve recitare. Tu tra l'altro hai una vita incredibile, straordinaria, perché comunque sei stata in una favela, no? Da piccola, parli dialetto brasiliano, portoghese, quindi. E' qui? 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 Guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello, chi è, non è? E' un paese speciale, un paese speciale, l'ho imparato con i bambini lì. Pensa che a due anni sono tornata in Italia e dicevo sempre alle signore di paese a San Potito Sannitico, in provincia di Caserta, dove poi ho studiato, insomma, tutta la mia vita è lì, dicevo io che ero senora, che ero senora. E queste signore di paese dicevo ma che signora vuole questa? E invece senora vuol dire carota in brasiliano, quindi io volevo una carota. E queste non capivano, Anna e Carmela, le signore stupende di San Potito che mi hanno cresciuto, che sono per me, mia sorella e la mia famiglia persone specialissime dal grande cuore, non sapevano, però adesso lo sanno che senora vuol dire carota. Carota, 7-10 appuntamenti in portoguese per Mila Settembre? Então, meus amigos, chegamos al final, amanhã, ultima vez che a gente vê Mila Settembre, tem tantas cose, fica qui con a gente, Rai Uno. Rai Uno, l'ho capito. Ciao, Cristiane. Ciao, grazie a tutti. E allora, weekend con te. Grazie.